domanda perché non mandate lo strumento in trans profonda risposta perché è una sua necessità vivere la sua medianità in questa maniera per una causa che risale a delle vite precedenti e poi perché per ottenere una vera trans profonda è necessario che lo strumento abbia un maggiore distacco dal suo io siccome noi non possiamo forzare la perdita di coscienza e quindi la perdita di se stessi non abbiamo mai potuto mandare lo strumento in una trance più profonda che potesse calmare le sue paure domanda perché non mandate lo strumento in trans profonda risposta perché è una sua necessità vivere la sua medianità in questa maniera per una causa che risale a delle vite precedenti e poi perché per ottenere una vera trans profonda è necessario che lo strumento abbia un maggiore distacco dal suo io siccome noi non possiamo forzare la perdita di coscienza e quindi la perdita di se stessi non abbiamo mai potuto mandare lo strumento in una transe più profonda che potesse calmare le sue paure